Il marketing di vendita, il marketing di grow, il marketing di crescita aziendale è molto legato alle vendite, ai prodotti, ai ticket medi, a dei numeri, a dei controlli e l'imprenditore magari non è colui che fa il funnel, magari lo possiamo fare noi per te, magari lo vuoi delegare a qualcun altro, va benissimo, ma tu devi sapere come lo vuoi questo funnel, devi sapere quali deve utilizzare, devi sapere qual è il messaggio, l'offerta, devi aver testato delle cose per capire cosa vuole il mercato. Gli errori non sono nel funnel, nel facebook ads, nel lead, nel messaggio, sono nella strategia, è nella strategia che dovete veramente avere bisogno di insieme.